Ciao a tutti ragazzi e ben arrivati in questo nuovo video in diretta qui dal My Heart Studio oggi spacchettiamo un altro bel regalino che mi arriva da Siroco voglio parlarti di questa azienda perché è un'azienda spagnola leader per quanto riguarda prodotti di abbigliamento tecnico per lo sport ma specializzate in particolar modo nel ciclismo quindi occhi ben aperti andiamo a spacchettare il pacco e si parte andiamo! bene amici partiamo subito con l'aprire questo bel pacco come ti dicevo ho già avuto modo nell'arco della mia collaborazione di testare diversi prodotti della Siroco vediamo un po' oggi cosa mi hanno mandato da poco è stata rilasciata una linea dedicata proprio in particolar modo al fitness con delle felpe, delle giacche, magliettine e quant'altro tutti prodotti di qualità uno più figo dell'altro vediamo un po' oggi cosa mi hanno mandato io per il sì e per il no comunque qui già preparato dei prodotti che ho avuto modo di testare che mi sono stati spediti già in passato e che comunque avevo piacere di farvi vedere in quanto appunto l'oro affiliato voilà mamma mia qua ci sono credo sempre occhiali, lenti e quant'altro andiamo questo lo mettiamo via, andiamo un po' con ordine vediamo un po' cosa mi è arrivato allora sì credo che siano delle cose proprio nello specifico della linea fitness questo dovrebbe essere un collarino vi faccio vedere già il packaging che è molto molto interessante eccolo qui come vedete la qualità è assolutamente alta il top per quanto riguarda rapporto qualità prezzo vi invito a dare un'occhiata al loro sito anche attraverso il mio codice sconto che ti lascio qui giù in descrizione attraverso il quale se entrerai nel sito Siroco attraverso il mio link automaticamente otterrai un ulteriore sconto del 10% al checkout sui prodotti anche già scontati da Siroco adesivo eccolo qua uno qui e questo è il adesivo con l'oghino della Siroco beh questo diciamo non è quello che ci interessava collarino nero eccolo qui faccio vedere mettiamo bene a fuoco c'è il loghino della Siroco molto 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 ben fatto è di qualità assolutamente nulla da eccepire quindi collarino nero numero uno lo mettiamo qui da parte e passiamo al secondo prodotto sempre stesso packaging scusate rumore di carta vediamo un po' uhlala uhlala qua c'è una bella maglia felpata per il fitness per lo sport in generale per tutte quelle volte in cui c'è particolarmente freddo eccola qui ho il cappuccio grande qualità nei materiali devo dire sempre il top è la prima volta che provo la linea Siroco fitness eccola qui qui dietro vediamo se riesco a farvelo vedere qualche piccolo inserto ecco qua un po' con questi simboli del più un paio di calze nere eccole qui vediamo di riuscire ad aprirle molto velocemente e voilà logo Siroco scritto sul piede e in caviglia queste fascettine bianco su calzino nero belle anche queste andiamo avanti sempre adesivi all'interno di ogni confezione questi sono dei pantaloncini eccoli qua molto molto carini devo dire le taglie sono sì assolutamente corrette e voilà quindi loghino Siroco sulla gamba con questi sicuramente farò qualcosa per quanto riguarda anche il mio nuovo hobby che sto coltivando da qualche mesetto a questa parte come vedete qui ho messo due racchette da padel chi mi segue su Instagram anzi a proposito vi ricordo di andare a dare un'occhiata al mio account che vi faccio vedere qui o qui da questa parte adesso non so benissimo dove andrà inserito il link e magari se vi piacciono i contenuti di Instagram a seguirmi altro pacchettino questa è una bellissima maglietta come vedete ecco qua tanto per dire cartoncino carta un po' protettiva quindi comunque stiamo parlando di una qualità già abbastanza alta magliettina grigio scura credo che il tessuto sia molto molto elastico e totalmente traforato non so se si riesce a vedere ma credo di no vi assicuro comunque che pian piano un pochino si ci vede anche attraverso bella magliettina molto carina con l'oghino qui sul petto della Siroco eccolo qua e voilà poi mi hanno mandato credo che qui dentro ci siano i loro classici occhiali vediamo un po' se è chiuso il mio coltellino per l'unboxing aiuto vediamo un po' senza farci male cosa contiene vediamo ad aprire già ho diverse paia di occhiali che mi sono state mandate in passato ecco qua vado ad aprire insieme a voi per farvi vedere un po' anche quella che è la qualità adesivi all'interno eccoli qua e vediamo questo bellissimo paio di occhiali wow ragazzi che dire molto molto belli montatura trasparente questa volta con inserti in gomma grigia sia come nasello che come appoggio dietro le orecchie e lenti blu fantastiche li provo voilà tolgo quelli da vista eh come sembrano ci siamo questi possono essere ovviamente occhiali utilizzabili sia per il ciclismo che per qualsiasi altro sport all'aperto in giornate belle come quelle che abbiamo noi qui in Sicilia all'interno della confezione degli occhiali trovi anche una comoda custodia morbida con l'oddino siroco molto molto carina un nasello di ricambio e eh i non so come si chiamano eh le astine ecco che si poggiano in gomma che si poggiano alle orecchie per avere un maggior comfort e poi c'è uno non so che cosa sia un qualcosa di piccolino vediamo un po' cosa contiene fotocromica ah ecco una lente di ricambio per gli stessi occhiali fotocromatica eccola qua questa è una lente credo il modello degli occhiali sia il K3 quindi sono delle lenti compatibili con occhiali K3 in questo caso mi hanno inviato da testare una lente fotocromatica l'andrò a provare sicuramente in uno di questi giorni di sole in una bella passeggiata in mountain bike per il resto tolgo un attimo queste cose volevo farvi vedere qualche altro prodotto partendo da maschere per enduro ed MTB fuoristrada questo è un modello che si chiama Etna se ricordo bene che richiama un po' questi dettagli arancioni da una parte bianchi e invece tutta nera dall'altro una vestibilità un comfort davvero incredibile ho avuto modo di provarne una già in passato in qualche uscita un po' più spinta in MTB e quindi anche qui ovviamente arriva con la sua custodia morbida nella sua confezione rigida e vediamo un po' se ciò anche qui ci dovrebbe essere forse l'altra quella di cui vi parlavo che avevo già utilizzato questa credo che sia la Sedona ma ripeto trovate tutto tranquillamente nel sito Siroco al quale potete accedere attraverso il link che vi lascio giù in descrizione e appunto attraverso lo stesso link avrete direttamente applicato quindi proprio vedrete i prezzi già scontati ulteriormente con uno sconto del 10% ulteriore solo per essere entrati con il mio link e questa è la Sedona un'altra maschera comodissima molto molto confortevole sono veramente resistenti un'ottima qualità e ripeto il rapporto qualità prezzo Siroco secondo me assolutamente imbattibile per gli amanti del ciclismo anche su strada questi mi erano arrivati qualche tempo fa non li ho ancora testati e non li ho ancora utilizzati sono dei bib quindi pantaloncino con il fondello un fondello di tutto rispetto ovviamente stiamo parlando nulla a che vedere con quei fondelli molto molto sottili e molto molto economici anche che troviamo un po' in giro in qualche altro negozio molto carino questo con dei dettagli una scritta Siroco da una parte della gamba vediamo se pian pian mamma mia riesco a farvela vedere eccolo qui e mentre nell'altra gamba nulla solamente nella parte posteriore credo delle striscette catarinfrangenti che comunque ci aiutano quando usciamo con la nostra bicicletta a essere un po' più visibili diciamo alle macchine che Alex vi ha detto qualcosa nel frattempo questo invece ve lo faccio vedere è una bella maglietta da abbinare a quei pantaloni maglietta ovviamente da ciclismo sempre tessuto super elasticizzato traspirante nella parte posteriore quindi traforato questa è la linea SRX di Siroco che è il top di gamma della casa spagnola eccola qua ovviamente tutto sempre con etichette una determinata qualità ragazzi purtroppo non riesco a farvi come dire a trasmettervi la qualità attraverso il video mi assicuro che stiamo parlando di una qualità molto molto alta e per il prezzo che hanno onestamente conviene tutta la vita ho avuto modo anche di provare io a diverse marche ovviamente avendo anche la passione della mountain bike di cui poi sicuramente in qualche futuro video vi parlerò ho avuto modo di provare diversi completini diverse stoffe ma questi Siroco che ho già testato devo dire sono ottimi altra bellissima maglietta un po' più colorata diciamo dal punto di vista del multicolore c'è sempre un tono arancione sempre il nero arancione che è l'abbinamento di colori che io preferisco eccola qua altra bellissima maglietta questa non è della linea SRS ma parliamo sempre di una qualità assolutamente elevata bene ragazzi anche per oggi direi che è tutto abbiamo parlato di questa splendida marca spagnola Siroco io l'unica cosa che vi invito a fare se volete è di andare a dare un'occhiata ma fatelo attraverso il mio link perché solo accedendo al sito Siroco attraverso il link che ti lascio qui giù in descrizione da affiliato avrete la possibilità di visionare già immediatamente tutti i prezzi dei prodotti a catalogo ulteriormente scontati di un 10% quindi perché spendere di più accedete al sito Siroco attraverso il mio link e mi raccomando seguitemi sui social iscrivetevi a questo canale aiutatemi a crescere qui su youtube in questo nuovo progetto che ho iniziato a coltivare nel 2022 e per il resto solito motto spagnolo vi voglio bene vi voglio casalute ciao ragazzi da Marco ci vediamo al prossimo video ciao